Io e la signora stiamo parlando. Signora, oggi è stata una giornata molto dura per lei e meglio si riposi e stia sola. Guardi, Ivan, non mi costringa a mandarla via io. Lei, signore? Sì, proprio io. Ivan, che fai? Ivan, smettila! Te lo ordino! Via di qua! Lei è un imbecille, signor Chayko. E un giorno se ne accorgerà se non l'ammazzano prima. Se ne vada e se ne stia tranquillo. Vattene. Io so quello che succede in questo paese. Verranno a mettersi ai miei piedi perché io non parli. Sì, intanto vattene. Qui sarà il padrone. Idiota, vuoi che ti picchi una palottola in una gamba? Ti strapperò la pelle di dotto! Via! Me la pagherai! Me la pagherai! Ma che è successo? Niente di importante. Ho solo licenziato il maggior dono. Buono.